Come fai a non fare una cosa sbagliata quando quella cosa sbagliata ti fa diventare matto? Ma come fai? La fai. Chi sa qualcosa d'amore sa che sto parlando di cose abbastanza ovvie. Quante volte in amore sai benissimo che quella persona ti manderà al manicomio, ma non ce la fai a dire di no. Ci caschi dentro quella magia perché è giusto cascarci. Perché a 96 anni te la ricorderai, quel meraviglioso naufragio. E non ti ricorderai tanti anni passati da sei meno o meno, annoiati, tutti uguali, sperando che ci sia la partita così non parliamo. Sperando che sarà agosto, passi presto. Vorremmo che dopo Natale non ci fosse Santo Stefano perché sennò si litiga. Quella vita un po' miserabile lì. Quella vita che non vogliamo cambiare perché, come diceva Sant'Agostino, che era un extra comunitario. Una volta gli avevo detto a Salvini, ho capito lo sconcerto, non è di Varese, gli ho detto, mi spiace. Sant'Agostino non è di Varese, è africano. Ed era anche un genio. E una volta ha scritto una cosa bellissima che riguarda la speranza. Diceva la speranza a due figli, l'indignazione e il coraggio. L'indignazione è per dire le cose che non ti piacciono. E il coraggio per cambiare le cose che non ti piacciono. Tutte e due assieme, eh? Perché sennò diventi il professionista dell'indignazione. Ne abbiamo già troppi. Quelli che si alzano tutte le mattine, ce l'hanno con qualcuno nel mondo, i cinesi, la Merkel, i governi che non sono governi, eh? Ce la prendi sempre con gli altri. Guarda in faccia quello che non ti piace. Comincia a dire ciò che non ti piace. E comincia a cambiare quello che non ti piace. Ma voi pensate che questo sia semplice? Voi pensate che a noi hanno insegnato a cambiare? No, a noi hanno insegnato il contrario. Hanno insegnato a star fermi. Marco Polo è stato un'eccezione. Gli altri andavano da Venezia a Chioggia, Chioggia, Venezia, Venezia, Chioggia, Venezia. Marco è andato oltre. Ma noi dobbiamo prendere appunti dai grandi, non dai mediocri. Non dobbiamo copiare i mediocri. Germano Facetti. Germano Facetti è stato il più grande graphic designer del Novecento, probabilmente. Quello che ha inventato la nuova rivoluzione dei cosiddetti Pocket. Art Director della Penguin's Book per alcuni decenni. Una vita non iniziata in maniera particolarmente facile. 16 anni. Lui e un amico sentono delle cose perché l'amico ha un papà inglese, sentiva Radio Londra. Siamo nel 1943, sentono delle frasi, pensano bene di scriverlo su dei pezzi di carta, pensano bene di andare in centro a Milano, attaccarlo alle pareti. E il coprifuoco, arrivano a pattuglia, li prendono e portano a San Vittore, li riempiono di botte. E due giorni dopo, treno. Auschwitz. De scusate, Mauthausen. Tutta questa storia me la sono fatta raccontare e l'ho scritta. Un uomo straordinario. Io l'ho conosciuto quando era ritornato in Italia, ormai anziano, ancora lucidissimo, straordinario. Lui, sua moglie, Mary, 50 anni di matrimonio, architetto anche lei. E' una sera che eravamo noi tre a casa sua in campagna, a Sarzana, in collina. Lui era un uomo che era stato bellissimo, faceva anche il modello alto, bello, come un attore americano. Era ancora bello da vecchio, era di un fascino incredibile. Ed era uno straordinario bevitore. Lui non beveva goccetti, lui beveva fiaschi da due litri. E una volta l'aveva finito, quella sera lì, si è alzato per prendere un altro. E alzandosi ha dato le spalle alla sua signora, da 50 anni. E gli ho sentito dire, scusami Maria, un'ora dopo, davanti al fuoco. C'è qualcosa che non torna, gli dico. Che cosa? Tu un'ora fa, ti sei scusato con tua moglie solo perché gli hai voltato le spalle. Noi, che siamo più semplici, non lo facciamo al secondo weekend. Tu sei una persona straordinaria, squisita, di una sensibilità pazzesca. Come è potuto accadere? Tu sei nato nel luogo più terribile che l'umanità abbia mai potuto progettare, costruire. Un lager nazista. Tu avevi 16, 17 anni e ci sei stato dentro quasi due anni. E il tuo amico non è più tornato. E tu sì. Com'è possibile? Tu mi hai raccontato oggi pomeriggio di quella notte in cui il tuo amico siete stati svegliati perché era arrivato un treno da chissà dove, pieno di corpi, di bambini, tutti morti. E avete lavorato con le vostre mani fino a mezzogiorno ad accattastarli sulla banchina, tutti quei bimbi. E sei stato tu che mi dici che ogni volta che provi a chiudere gli occhi la notte ti torna quel film, quel ricordo. Com'è potuto accadere? Ti hanno instillato l'odio? Ti hanno insegnato l'odio? Com'è potuto essere venuto su così? A lui? Dice, oh, non c'è mai pensato questa cosa qua. È vera, sai? È vero, è vero, è vero. E si tira sulla manica quella che c'è al tatuaggio. È vero. Mi hanno instillato l'odio, c'hai ragione. Oh, ma non mi ha preso. Io sono solo, nudo, davanti ad un esercito armato. Potete schiacciarmi come un insetto, ma non divento come voi. Non diventerò un nazista, non ucciderò i bambini. Io sono un poeta. Ecco cosa dobbiamo insegnare ai bambini. Che esistono delle persone così. Che ci hanno insegnato a vivere. Date un bacio ai vostri figli, come diceva quel vecchio Papa. Fatelli andare. Credete in loro. Sono forti, magnifici. Toglieteli sicurezze. Questo vuol dire amare. fa lì camminare, cavalcare, guardare davanti. Non bassi, davanti. C'è cratori, cacciatori di orizzonti. Solo questo. Tutto il resto non è dignitoso. Grazie. 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 Grazie.